ben trovati ragazzi su fu18 italia e siamo qui oggi per il secondo appuntamento sui trasferimenti estivi più importanti e soprattutto le relative carte che i giocatori potrebbero avere il prossimo anno su fifa 19 ultimate team partiamo dal trasferimento di rajan angolan dalla roma all'inter per un totale di circa 40 milioni più due giocatori tra cui santon il terzino italiano angolan manterrà la carta 86 nonostante il passaggio ma è molto probabile che avremo una carta once to watch molto molto interessante a inizio stagione verso i primi di ottobre il suo trasferimento porterà l'inter molta molta qualità e sostanza questo è poco ma sicuro e la roma perderà tanto secondo me da questo trasferimento il prossimo trasferimento è quello di emre chan un 24enne tedesco che è passato a parametro zero dal liverpool alla juventus un ottimo centrocampista che fa bene tutte le fasi del centrocampo segna spesso ed è un rinforzo molto buono per per la juventus rinforzare questo centrocampo in attesa di scoprire se ci saranno altri colpi di mercato la sua carta potrebbe salire di overall di uno da 79 che in fifa 18 ad 80 nel prossimo anno il terzo acquisto è nuovamente dell'inter questa serie a si sta rinforzando abbastanza quest'anno ed è l'autaro martinez una punta argentina che giocava nel racing ora all'inter per un trasferimento di circa un totale di 23 milioni ha fatto un'ottima stagione un ottimo attaccante c'è chi dice richiami leggermente battistuta anche se mi sembra un po esagerato però potrebbe essere un buon investimento per l'inter perché ha appena 20 anni e come ho detto 23 milioni circa il costo del cartellino totale e la sua carta attualmente argento 72 in fifa 18 potrebbe arrivare a un overall 77 per una carta oro all'inter il prossimo trasferimento ci spostiamo in premier league perché è riccardo pereira terzino destro portoghese passato all'eister la sua carta rimarrà molto probabilmente tale con ovvero l'ottanta è già una discreta carta che si va aggiungere ad un ruolo un po scarno di giocatori se non fosse per walker e valencia in premier league ultimo trasferimento di oggi di cui parliamo è quello ufficiale di javier pastore per un totale di circa 24 25 milioni il trasferimento dal paris san germain alla roma il centrocampista argentino ex palermo non ha mai brillato un granché a parigi chiaramente non era facile con tutti i campioni che aveva attorno però può tornare alla ribalta alla roma e la sua carta rimarrebbe un overall 83 però come per nine goland potremmo avere una carta once to watch anch'essa interessante perché potrebbe salire un overall 85 86 eccetera bene ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di questi trasferimenti e fatemi sapere se vi piace ancora questa serie di filmati di video in cui vi mostro i più grandi colpi di mercato del panorama europeo e vi ricordo che c'è già un video di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa con altri grandi trasferimenti e ci troviamo a brevissimo con il prossimo video e un saluto grazie per la visione la nostra partnership con fifa coins buy un sito altamente affidabile dove acquistare crediti per fifa 18 ultimate team a prezzo basso e grazie al nostro codice fut18 italia potrete avere 7 per cento di sconto sul totale grazie per l'ascolto ragazzi grazie per la visione ricordatevi di iscrivervi al canale mettere un like al video un saluto da lucio e da fut18 italia ciao